Nencini, per quanto riguarda questa nuova legge elettorale, non sembra ci sia l'accordo tra le forze politiche. Quali i nodi e qual è la vostra posizione? Non si stravolgono le leggi elettorali quando mancano pochi mesi alle elezioni. A quella italiana basta un solo ed unico cambiamento, restituire agli italiani la possibilità di scegliere i loro parlamentari e questo è sufficiente.